Amiche ed amici di Torino Channel, ben trovati per il quinto giorno di allenamento del Torino di Vanoli qui a Pinzolo. Quest'oggi sessione di allenamento di scarico dopo l'amichevole di ieri contro la Virtus Verona, terminata 2-1 in favore dei Granata. Oggi sessione particolare per i vari giocatori che hanno dedicato il loro tempo, alcuni alla palestra, altri alla corsa, invece altri con il fisioterapista per poter recuperare le condizioni fisiche migliori e riprendere di conseguenza domani la preparazione in vista dell'ultima amichevole qui a Pinzolo contro la Cremonese il 27 di luglio. Ovviamente vi lasciamo con le immagini dell'allenamento odierno e vi ricordiamo che potete recuperare, potete rivedere l'amichevole contro la Virtus Verona qui su Torino Channel sia in versione integrale che soltanto con gli highlights. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.